Lucia perdona se ad ora inusitata di vederti chiedea. Questa è la battuta che Edgardo a un certo punto rivolge a Lucia di Lammermoor. Noi sappiamo che i loggionisti sono il sale dei teatri perché rispondono con battute mordaci, a volte leggendarie, a alcune impasse in cui possono cadere i cantanti. Nel 1953 Edgardo, dopo aver pronunciato questa battuta, si aspetta di ricevere una risposta da Lucia. Il problema è che Lucia di Lammermoor in quel momento non è sul palcoscenico. Perché? Perché si è appena rotta un tacco di una scarpa e quindi è uscita in gran fretta. Per fortuna che un loggionista del Coccia, dall'alto del loggione, toglie dall'imbarazzo Edgardo, che non trova la sua Lucia, e urla. Non preoccuparti, Lucia torna subito. Grazie. 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 Grazie.